...palla buona per Cambiasso, lascia il capitano contro Cross, attenzione Maicon, dal vantaggio l'arbitro di Menetz, solo il tiro, a gol, 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 Imenetz! Terzo gol in campionato per il Baghetto, protestano il rosanero per un fallo di Maicon, l'arbitro dice tutto normale. Vediamo perché protestano, protestano per un fallo di Maicon, vediamo, ha il pallone dentro. ...cade a terra, mi sembra che Rinaldo vada a sbattere non contro Maicon, ma contro un suo compagno. Poi il numero di Menetz che batte spiazzando Jimmy Fontana, Inter che va al raddoppio, 2-1, giusto, 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 giusto.